E do subito il benvenuto al professor Marco Lanzetta Bertani e anche un ospite eccezionale, Don Carmine Santoro, benvenuto perché oggi parliamo di un argomento che a noi sta molto a cuore, come sta a cuore anche ai nostri amici telespettatori parliamo di medicina rigenerativa e poi vi spiegherò perché c'è Don Carmine qui con noi perché ha fatto proprio, come dire, infiltrazioni di cellule mesenchimali e io ricordo che il professor Marco Lanzetta Bertani è chirurgo al Centro Nazionale Artrosi di Milano e questo è importante perché noi da anni lo seguiamo nelle sue ricerche e forse siamo state anche la prima trasmissione a parlare dieci anni fa proprio di cellule mesenchimali un po' era l'inizio della vostra ricerca. Vogliamo ricordare, caro prof, che cosa sono queste cellule mesenchimali come funzionano? Hai parlato di ringiovanimento articolare ed è esattamente quello che le cellule staminali devono fare, rinfrescano e rendono più giovani le nostre articolazioni. Come? Perché sono delle cellule che sono appena nate e hanno già un'idea di dove andranno a finire da grandi. Attraverso questa procedura noi le andiamo a recuperare in grandissime quantità, milioni di cellule staminali e gli facciamo fare una scorciatoia quindi li recuperiamo dal grasso della pancia e poi li possiamo infiltrare. Quando abbiamo cominciato 8-9 anni fa si parlava di ginocchia, anche le grandi articolazioni. Adesso anche ieri abbiamo fatto un'infiltrazione con degli aghi microscopici, delle piccole articolazioni delle dita, le articolazioni dei piedi, quindi la tecnica è andata molto più avanti. Siamo in grado di frammentare il tessuto in una maniera molto maggiore e quindi di inserirla anche in piccolissime articolazioni. Le cellule staminali hanno questo vantaggio enorme che si replicano, quindi rispetto a tutto quello che si faceva prima. Qualcuno che ci sta guardando avrà familiarità con certi termini, l'infiltrazione con le PRP, che sono delle piastrine che vengono prese dal sangue, oppure con l'acido ialuronico, quello classico che conosciamo ormai tutto. Ecco, questo è un grande, grande passo in avanti, perché è una cosa che si fa una volta sola nella vita. E poi sentiremo, allora, io vorrei conoscere un po' la storia di Don Carmine, perché Don Carmine, lei professore, ha fatto le infiltrazioni proprio sulle anche di Don Carmine. Quali erano i sintomi? E come mai poi si è rivolto al professor Lanzetta? I sintomi erano essenzialmente una elasticità che veniva meno, a cui ero abituato, ma man mano col tempo veniva sempre meno. Dolori a livello lombare, poi a livello dei glutei e anche stando fermi o stando in posizione supina avevo problematiche di dolori vari, oltre a non riuscire a mettere le gambe così. Dopo un po' non riuscivo. E allora questo mi ha portato a chiedermi cosa potesse essere. In verità l'aspetto del dolore lombare mi ha portato fuori strada, perché pensavo avesse a che fare coereni. E quindi ho fatto una serie di accertamenti in questo senso, chiaramente non c'è stato nulla, e poi veramente qualcuno mi ha indicato una cosa semplicissima, cioè andare a fare una Rx e verificare cosa potesse essere. Dalla Rx è arrivata tranquillamente la, come dire, il responsu, e il responsu era chiaramente coxartrosi bilaterale. Fatto questo ho cercato la soluzione, scoperto il problema si cerca la soluzione. E mi sono imbattuto in un video riguardante proprio le cellule mesenchimali e il mio medico. E quindi questa cosa mi ha portato direttamente a cercare la soluzione. La soluzione. Ecco, professore, qual era lo stato? Noi dovremmo avere anche una radiografia delle anche... Credo che sia proprio questa che avete cerchiato, il rosso, le due anche destra e sinistra. Questa è una classica coxartrosi intermedia. Non è una cosa iniziale, non è una cosa terminale, in quel caso purtroppo certe volte bisogna ricorrere alla protesi perché è troppo tardi per intervenire. E Don Carmine è giovane anche, no? Don Carmine è giovane. Poi mi ha spiegato, noi ci siamo visti qua a Roma, mi ha spiegato, lui fa un lavoro molto importante per la sua comunità, è molto attivo, cammina, poi spesso nel suo paese bisogna salire, scendere, scale, quindi deve essere attivo. E lui era un candidato ideale a fare questo tipo di cose, perché altrimenti la tendenza è quella di non fare nulla e di aspettare fino a quando la cosa degenera al punto che bisogna mettere una protesi. Poi le protesi vanno benissimo, tutto quello che volete, però è strano non poter fare niente e quindi con le cellule staminali si è riempito un vuoto. Adesso se io non avessi questa carta da giocare veramente non potrei rispondere a tantissimi pazienti. Tant'è vero che ora abbiamo allargato un po' le indicazioni e cominciamo a farle molto prima. Quindi questo è un intervento che diventerà prevenzione di artrosi. Prevenzione di artrosi è questo per cui a 50 anni è bene se si ha qualche dolore andare subito dallo specialista e vedere il caso appunto, perché più si è giovani meglio è immagino che la medicina rigenerativa proprio fa questo, ha più possibilità di rigenerarsi e ricostruirsi tra virgolette e poter vivere una qualità di vita certamente migliore. Allora lei ci ha portato anche il kit, faremo vedere esattamente che cosa sono, perché più volte non l'abbiamo, ma è bene anche perché sono andate anche avanti, anche le tecniche infiltrative vi faremo vedere, vi diremo tutto subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi. Eccoci, siamo tornati in diretta, siamo in compagnia del professor Marco Lanzetta Bertani e anche di Don Carmine Santoro, stiamo parlando di medicina rigenerativa, di cellule mesenchimali. Ovviamente Don Carmine ha fatto la sua prima infiltrazione, andremo poi nel dettaglio della storia di Don Carmine, però abbiamo capito come funzionano le cellule mesenchimali in realtà adesso che cosa avviene? Lei ci ha portato il kit proprio di preparazione delle cellule, vero? Sì, devo dire che negli anni la procedura è cambiata un po' e noi abbiamo portato delle innovazioni e delle cose nuove che ci hanno dato dei risultati molto migliori. Quindi l'infiltrazione, ad esempio Don Carmine, comincia prima della procedura, perché questi sono pazienti per l'anca che fanno prima un lavoro di scollamento, cioè con un fisioterapista ottengono che la testa del femore si stacca un po' dall'acetabolo in modo che il mio lavoro è più facile, posso entrare in questo cancello che spesso è chiuso, quindi la procedura non può avere un buon risultato. Se io arrivo all'articolazione dell'anca non riesco a entrare e devo infiltrare le staminali intorno ma non dentro. Quindi questo ha cambiato tantissimo le cose. È un periodo di una settimana, dieci giorni, l'ultima seduta di scollamento la si fa la sera prima dell'intervento, dopodiché l'intervento è diventato una routine per noi, tra l'altro senza nessun tipo di effetto collaterale o rischi. In pratica, ormai lo sanno quasi tutti, lo vediamo anche dal filmato, si fa una liposuzione addominale con una cannula che è questa qua, attaccata a una siringa con una pressione negativa per cui il grasso entra da questa cannula, si raccoglie nella siringa. Cosa sente il paziente, il professore? In questa fase niente, perché prima di estrarre il grasso si iniettano una soluzione con della fisiologica e dell'anestetico. Quindi in questo caso niente, sente forse un po' di manovre ma non dolore. E a questo punto qui abbiamo simulato la nostra siringa di gasso che viene inserita in un cilindro, quindi da questa parte. Ci sono tanti sistemi, questo è un sistema dove ci sono delle biglie di acciaio all'interno e una volta che il preparato è all'interno, facendo questo lavoro qua, viene frammentato, diventa di fatto quasi un purè, molto molto sottile, perché più sottile è e più riusciamo a farlo passare da aghi anche molto fini, se stiamo facendo ad esempio un dito, un pollice. A questo punto lo recuperiamo dall'altra terminazione e ovviamente poi si inietta. Ovviamente questo invece è una cannona per l'iniezione, l'iniezione viene fatta sotto controllo radioscopico, quindi con una precisione millimetrica. Di fatto per l'anca senza la radiologia non potremmo farlo perché abbiamo la necessità di entrare qua, vedete questa è la testa del femore, questo è l'acetabolo, quindi io devo per forza entrare qua. Ecco, se questa condizione non viene raggiunta non posso pensare di avere un buon risultato. Quindi... Deve essere scollata proprio. Deve essere scollata. E questo quanto è importante appunto anche la fisioterapia prima di effettuare un'infiltrazione di questo genere. Poi il controllo radiologico fondamentale perché vedete così lo riusciremo a farlo. E lo stiamo vedendo infatti, professore. Così andiamo a picchiare contro la... Lo stiamo vedendo attraverso le immagini che ci identificano... Avete visto come l'ago entra proprio nell'articolazione il più possibile perché poi la testa del femore è rotonda, quindi l'ago è longitudinale, non possiamo seguirla. Però diciamo che si prende il grande trocantere come punto di riferimento, si sta a rasi al grande trocantere a questo punto, col lavoro che abbiamo fatto prima, si entra il più possibile e qui, quando inietto, le cellule mesenchimali si distribuiscono bene e dipingono tutta la testa del femore. A Don Carmio però, come è andata l'infiltrazione? Che cosa... Di suo è stata molto semplice. Il tutto è durato mezz'ora in sala operatoria. Sono entrato in clinica alle sette e mezza del mattino, ne sono uscito nel primo pomeriggio con le mie gambe, tranquillamente con le mie gambe e c'è stata la preparazione. È stato doloroso perché, allora, il professore ha detto, insomma, nella fase di, come dire, quando ha prilevato le cellule mesenchimali, niente. Quando invece sono state iniettate, in quel momento che cosa ha sentito, Don Carmine? La fase in cui c'è stata la liposuzione, no? Non ho sentito assolutamente nulla, anzi, ho sbirciato, lo confesso. Sono riuscito a sbirciare dalla... Curioso, giustamente. La riuscivo a vedere e ho visto. Sono un po' curioso io. No, perché alcune persone magari non vogliono assolutamente... No, è veritano. Poi, quando invece è stata iniettata... La fase iniettiva? Sì, lì ho avuto un attimo di... ma non dolore, una sensazione di fastidio un po' più forte, e anche perché riuscivo anche qui a sbirciare direttamente e guardavo l'ago che arrivava sino all'Acetabo. Il beneficio l'hai subito sentito? Cioè, allora, quando l'hai fatta l'infiltrazione? Io l'ho fatta fino a ottobre, quindi sono quattro mesi. Quattro mesi, sì. E subito dopo, vabbè, mi sono rivestito, andato via dalla clinica, la sensazione iniziale era questa. Da una parte mi sentivo come se fossi diventato più alto, non so come spiegarla, la sensazione, no? E la difficoltà ad essere totalmente in equilibrio all'inizio. Era come se si fossero spostati un po'... si fosse spostato l'asse. Ecco, poi nel pomeriggio le cose sono migliorate, la sera siamo andati a cena. Ecco, per cui, insomma, adesso a quattro mesi di distanza? A quattro mesi di distanza, allora, avverto sicuramente una maggiore elasticità. Avverto la capacità di camminare tranquillamente, le scale non mi fanno paura. Le lunghe camminate ancora non sono riuscito a farle come le facevo prima per ragioni di tempo e anche perché ho altre patologie che me l'hanno impedita. No, paura no, paura no, anche perché sto già programmando. Ah, per cui, insomma, è sicuro, Don Cali, è sicuro. Ma credo che nella vita vada preso il bello e il buono che ci viene offerto. Assolutamente sì. E allora, avendo fatto prima il cammino di Santiago, poi avendo fatto la via Francigena, poi avendo fatto un po' la via di Francesco, ho altri progetti in mente. E bisogna avere anche in ottima forma per fare tutte queste camminate. Allora, ha fatto un'infiltrazione, ne serve qualcun'altra? No. Solo una? No. Utilizzo questa cosa da otto anni, dal febbraio 2016. Non ho ancora fatto un secondo trattamento ai centinaia e centinaia di pazienti che abbiamo fatto. Magari l'ho fatto per un'altra articolazione. Se Don Carmine fra 5-10 anni dovesse arrivare con un'artrosi del ginocchio, è un altro discorso. Ma sulla stessa articolazione no. Non ha neanche senso perché sappiamo che siccome le cellule si replicano, non avrebbe senso mettere una cosa a distanza che è già lì. Perché si replica. E come andrà il recupero di Don Carmine? Sempre migliorando? Sì, adesso noi stiamo vedendo ormai, abbiamo un follow-up importante perché pazienti che seguiamo da otto anni. E quindi vediamo che i risultati sono costanti. Una delle cose che facciamo, e che questo ci distingue un po', e forse anche per questo noi siamo tranquilli dal punto di vista dei risultati, è che dopo l'infiltrazione, dopo due o tre settimane, noi abbiamo una macchina, un elettromedicale importante, che si chiama Criolaser Foresi, che ci permette di portare all'interno dell'articolazione dell'anca dei prodotti benefici per le cellule staminali. Perché a certe volte le cellule staminali arrivano in un ambiente molto ostico, secco, asciutto, devono fluidificarlo, renderlo più elastico. Ecco, se portiamo dei prodotti che possano aiutare, come ad esempio anche del semplice ghiaccio di aluronico, ad alta viscosità, cioè molto, molto lubrificante, abbiamo visto che i risultati tendono ad essere nettamente migliori dal punto di vista statistico. Quindi queste piccole cose che abbiamo aggiunto a corollario fanno la differenza e poi chiaramente voi sapete che i nostri pazienti nessuno va a casa senza dieta, senza integratori. Per cui una dieta anche personalizzata. Grazie, grazie a professor Marco Lanzetta Bertani, grazie a Don Carmine, grazie per essere stato con noi, grazie professore.